30 litri secondo, un numero che storicamente in questo periodo non è mai ricorso. Una stagione invernale particolarmente siccitosa e assenza di neve che si registra ormai da almeno 7 anni stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del Piceno, che stanno vivendo la peggior situazione di sempre. In base ai prelievi effettuati alle sorgenti negli ultimi giorni da parte dei tecnici del Consorzio Idrico è emerso che rispetto all'anno scorso c'è il 50% di acqua in meno. Gli impianti di soccorso stanno lavorando al massimo delle loro possibilità, ma se non dovessero avvenire eventi meteorologici favorevoli, a partire dalla metà di giugno potrebbero scattare i razionamenti idrici notturni nelle abitazioni dei 56 comuni delle province di Ascoli e Fermo, serviti dal Consorzio Idrico. Sono stati gli stessi vertici del Consorzio ad illustrare un quadro a tinte fosche che vedrebbe la criticità maggiore tra luglio e agosto in piena stagione turistica. I lavori per limitare la dispersione avviati da qualche anno, spiegano al CIP, richiedono tempi lunghi. Stiamo comunque andando avanti con ricerche perdite innovative. Anche quest'anno rifaremo un giro di ricerca perdite satellitare, proprio perché la stagione è molto critica e quindi riteniamo di dover mettere in campo tutto quello che la tecnologia ci permette di utilizzare, insomma, per cercare di combattere il fenomeno delle perdite. I consigli per un utilizzo responsabile dell'acqua sono ricorrenti in questo periodo, ma di fronte ad un'emergenza come quella di quest'anno, il rischio è di dover ricorrere ad un razionamento che il CIP vorrebbe scongiurare, anche di fronte ad una situazione del tutto inedita. È una situazione davvero complicata. Alcune sorgenti non sono mai state a questi livelli di portata e quindi dobbiamo ottimizzare al massimo l'utilizzo della risorsa. Quindi chiediamo un po' la collaborazione di tutti nel cercare di far fronte a questa situazione di emergenza. Grazie. 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 Grazie.